Sicuramente questo video esce anche per certi aspetti con colpevole ritardo nonostante non sia colpa mia nel momento in cui l'audio del VAR è stato reso pubblico solamente nella giornata di ieri. Di fatto a Open VAR quel programma che va in onda su Sudazon dove si trattano diciamo i temi da VAR della settimana precedente quindi fino appunto a ieri non avevamo la possibilità di ascoltare l'audio del VAR per quanto riguarda appunto Sassuolo Juventus. E per certi aspetti è meglio così se posso essere per certi aspetti è veramente meglio non sapere dove bene o male dopo per carità uno può pensare alla malafede uno può pensare alla completa e totale impreparazione da parte degli arbitri per l'amor di Dio. Per certi aspetti è anche un bene no? Che si faccia tutto quanto sentire così magari tendi un pochettino ad escludere il discorso inerente alla malafede però sei bene o male al punto di partenza nel momento in cui riesci dopo tanti anni di richieste ad ascoltare ciò che effettivamente si vanno a dire. Perché se non c'è la malafede e io non ci voglio minimamente pensare anche perché altrimenti non avrebbe il senso di andare a mandare in onda degli audio soprattutto per quanto riguarda delle situazioni abbastanza controverse. Beh per quanto riguarda invece l'incompetenza totale degli arbitri beh una bella parentesi si potrebbe anche aprire proprio perché sarebbe anche quasi superfluo riportare le parole che si sono detti al VAR riguardo quell'episodio quando ho tranquillissimamente la possibilità di farvele ascoltare. Urca boia, porca vacca, striscia però, è brutto ma striscia, per me è brutto ma striscia io glielo confermo ti dico, no io glielo confermo perché comunque striscia anche se il punto di contatto è alto, cosa mi dici? Io capisco tutto quanto, capisco veramente tutto quanto, ma così è la presa per il culo. Poi non stiamo a guardare il fatto che come spesso e volentieri abbiamo anche già detto in lungo e in largo la Juventus, quella partita, guarda l'avrebbe persa anche se avesse giocato 11 contro 9. Non è quest'episodio sicuramente che va a giustificare quella partita lì, l'abbiamo già detto diverse volte e dato che si parla sempre di quell'episodio mi sembra giusto ribadirlo per l'ennesima volta. Anche perché poi a distanza di qualche giorno Berardi ha purgato anche gli inetti, quindi tutto sommato, per l'amor di Dio, poteva andare anche sicuramente abbastanza peggio, ma diciamocelo proprio chiaramente che non ha spostato nulla a livello di classifica della Juventus. Anzi, vedendo che tanto nel dubbio noi i tre punti stiamo iniziando a farli con una certa difficoltà, ma questo rimane pur sempre un altro paio di maniche, però se mi devo anche sentir dire No, vabbè, ma lo striscia, è alto, è alto, ma lo strisce basta, non c'è più la pericolosità, lo strisce basta, quindi per l'amor di Dio va più che bene solo ed esclusivamente il cartellino giallo. La cosa che mi fa un pochino paura è che siamo veramente in mano a questi arbitri qui, dove veramente lo ribadisco, non voglio pensare che ci sia malafede anche perché non ci sarebbe minimamente il senso della trasmissione in sé con la malafede, perché se sei malafede non accetti di mandare in onda una settimana dopo gli audio di quelli che sono gli episodi più controversi, quindi sicuramente la malafede è da escludere. Ma l'incompetenza più totale invece prende sempre più piega e questa è anche una roba abbastanza grave ed ovviamente io in questa determinata circostanza ci mancherebbe altro che non parli dell'episodio che riguarda una partita della Juventus, ma anche proprio banalmente ieri c'è parlato anche di un gol palesemente regolare di Ferguson. Sono tanti episodi per carità, però appunto obiettivamente frega cazzi del Bologna, tanto ci pensa puntualmente Tiago Botta come ci pensa il tesserato di turno che non è mai andato nella sua intera carriera, poi puntualmente a ridosso di certe partite, anzi post. Puntualmente Casostrano va davanti ai microfoni, quindi qui eventualmente ci penseranno loro perché qui vuoi o non vuoi si parla di Juventus, ci interessa di Juventus e va bene così. Però sta roba qui ragazzi se posso essere sincero un pochino mi spaventa l'incompetenza dilagante che c'è perché non si parla neanche tanto di un gol in fuorigioco dove il VAR viene utilizzato in modo malvagio come può essere la partita contro la Salernitana, probabilmente il caso più grave quantomeno in Italia da quando esiste il VAR e va bene. Qui si parla anche proprio di rischio a livello fisico, perché se tu non mi convaludi un gol, non mi dai un rigore abbastanza evidente, nonostante appunto l'incompetenza che continuerebbe ad essere totalmente dilagante, ci mancherebbe altro, va bene. Ma Seberardi entra come entra su Bremer e te dici no vabbè è cartellino giallo perché solamente lo striscia. Quando è tra tibia e ginocchio, a gamba tesa, cioè che cos'è gli doveva spezzare una gamba per dire no effettivamente qui ci sono tranquillamente i presupposti per il cartellino rosso? Ma è lo striscia, cazzo, a gamba tesa col piede tra tibia e ginocchio, ma è lo striscia che poi lo striscia fino a una certa perché comunque gli dà anche proprio una bella piantata sopra la tibia che non è che sia la cosa più meravigliosa del mondo a livello di dolore e quant'altro. Ma che cos'è? Gli doveva spezzare una gamba in due per dargli un cartellino rosso? Poi io posso anche capire che Rocchi per forza di cose anche in un qualche modo per giustificare e tutelare delle robe in studio le deve dire che in questa circostanza specifica Rocchi ha detto questa situazione era molto particolare. Per noi era da cartellino rosso, a livello procedurale viene fatto un ottimo percorso, cercano tutte le telecamere, noi valutiamo i VAR non solo per la decisione presa ma anche per altri parametri. E qui cosa c'è da tutelare obiettivamente? Cioè da tutte le telecamere che c'erano a disposizione era un rosso grande come una casa. C'è per assurda anche un aggravante che cerchi, trovi e vedi da tutte le telecamere possibili quella che è stata la dinamica e la pericolosità dell'intervento e non mi puoi andare a giustificare, a tutelare. Beh però cazzo sono stati bravi ad andare a cercare tutte le varie telecamere del caso. Se avevano anche tutte le telecamere e hanno visto da tutte le telecamere ma nonostante tutto hanno preso la decisione sbagliata, non è che devi tutelare perché hanno rispettato tutti i vari parametri e tutte le pugnete procedurali, è un aggravante che poi per certi episodi spesso e volentieri basta anche proprio una singola telecamera per vedere che cosa è successo e per giudicare veramente in 5 secondi se ti prendi anche proprio tutto il tempo del caso. Poi per carità, sbagliare umano, ma io obiettivamente in queste circostanze lo sbagliare umano lo tengo in considerazione solamente per l'arbitro di campo che magari non era posizionato nel migliore dei modi, che magari non ha visto tutto quanto bene, che magari a velocità reale ha visto quello che ha visto molto banalmente e dici vabbè tanto comunque c'è la possibilità di ascoltare quello che mi dicono al VAR, ma se al VAR con tutte le telecamere, senza la fatica della partita, che puoi vedere tutto quanto bene con la giusta calma, senza la frenesia della presa diretta dai visuali spesso e volentieri neanche proprio ideali, uno poi si sente dire no vabbè lo striscia puoi andare avanti con una gamba tesa tra tibi e ginocchio, uno poi si sente ma neanche preso per il culo perché non è che ti stanno probabilmente neanche prendendo per il culo, ti stanno proprio dando dimostrazione che ti puoi aspettare veramente di tutto di partita in partita, può accadere sempre il tutto al contrario di tutto, poi ha voglia di stare qui a dire eh vabbè ma cercheranno in qualsiasi modo possibile, inimmaginabile di portare la Juventus tra le prime quattro, vedrete, vedrete, anche perché già lo stanno facendo, con per esempio un rigore solare giustamente dato ad Udine con un pallone mai uscito ma che doveva essere annullato, il gol contro la Lazio solo ed esclusivamente perché il popolino pretendeva questo, poi magari vai a Reggio Emilia sul risultato di svantaggio a 40 minuti dalla fine per un rosso diretto palese e riconosciuto al 90% al di là del tifo e quindi questo lo dice anche abbastanza chiaramente su che tipo di episodio sia, soprattutto quando si parla di episodio che andrebbe in un qualche modo a favorire tra mille virgolette la Juventus se il 90% a prescindere dalla fede calcistica riconosca che sia un rosso grande come una casa con tanto di interisti però che puntualmente si sono svegliati solamente dopo la partita del turno infrasettimanale della loro squadra, chissà come mai, ha voglia di stare qui a dire faranno di tutto per portarli in Champions League, accasso si vede quando a 40 minuti dalla fine su un risultato di 2 a 1 non si dà la possibilità alla Juventus di giocare per i 40 rimanenti con un uomo in più, con un uomo in più per un rosso grande come una casa perché magari dal VAR ti dicono ha solo strisciato, adesso non è che ci possiamo soffermare su queste sottigliezze e via io veramente consiglio a Dazon di smettere con questo programma, tanto nel senso sono bastate probabilmente 2-3 puntate al massimo per capire che c'è un'incompetenza dilagante almeno non fateci venire l'incazzo a distanza di una settimana perché tra l'altro le robe le vai ad ascoltare a distanza di una settimana perché appunto ti incassi solamente di più, ecco, né più né meno tanto una volta che l'incompetenza dilagante è stata appurata, basta, siamo a posto cioè veramente va più che bene così, piuttosto non voglio sentire, piuttosto preferisco non sentire detto questo ragazzuoli voi magari fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine, forza Juve Ciao 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 Grazie a tutti.